Buonasera, ben trovati a questa nuova edizione del Tg Versilia. A Viareggio esplode ancora il fenomeno delle discariche in strada, rifiuti abbandonati, fenomeni di inciviltà. Il Comune alza il tiro sui controlli e le multe, intanto anche online, oltre alle immagini del degrado, ci sono anche operatori di SEA che fanno appello alla civiltà o inciviltà dei viareggini. Ma vediamo insieme le immagini. Viareggio, città sporca o sporcata, sono infinite le segnalazioni che ci arrivano ogni giorno dagli angoli più diversi. Dal centro alla periferia non si contano ormai gli episodi di discariche a cielo aperto. Inciviltà, maleducazione o servizi di raccolta da migliorare. Dalla via Coppino in Darsena, dove periodicamente compaiono sacchetti e materassi all'isola ecologica, alla via Michelangelo Bonarroti, parallela a lungomare, in piena zona turistica. Nell'interno zona critica, quella dei Macelli, dove regolarmente la spazzatura si accumula all'ingresso della variante Aurelia. Non va meglio in via Paladini, al Varignano, di fronte al quartiere Allende. L'ultimo e più eclatante caso è sulla via De Lecci, tra l'ex campo d'aviazione e Torri del Lago. A denunciare l'ennesima discarica, in un video pubblicato su Facebook, è Marco Del Cima, noto operatore di SEA. Società chiamata a raccogliere rifiuti della differenziata, ma anche a ripulire dove gli incivili sporcano, vanificando gli sforzi dell'azienda. Cittadini, cittadini, ma vi sembra al sistema una cosa del genere? Ma vi ricordo che noi viviamo in un posto turistico, dove tutti vengono in vacanza, la Versilia, via Reggio. Ma vi sembra al sistema di fare una discarica a cielo aperto così? Ma che esempio diamo per gli italiani e stranieri che vengono in vacanza qui? Ma una mano sul cuore, un po' di coscienza. L'amministrazione comunale, attraverso la polizia municipale, ha scelto la via della tolleranza zero, inasprendo i controlli e alzando le sanzioni per i furbetti che abbandonano la spazzatura in strada. Dunque avete sentito l'appello accorato alla civiltà dei viareggini e anche le tante segnalazioni che continuano ad arrivare alla nostra redazione. Non solo sui rifiuti, dobbiamo dire, ma anche sullo stato delle strade della città di Viareggio. Qua siamo al Varignano, buche, radici sporgenti, asfalto sconnesso, è la video denuncia di un telespettatore del Varignano che ha filmato lo stato di degrado di via Santa Marta a Viareggio alle spalle dell'Istituto De Sortis. La situazione è pericolosa, rischioso persino camminare a piedi, storte e distorsioni sono casi frequenti. Denuncia e telespettatore alla nostra redazione, difficile se non impossibile transitare in bici e in motorino, anche in auto diventa difficoltoso. La situazione è così da molti, molti anni e nessuno ha mai fatto niente. Così denunciano i residenti della zona che già in passato avevano lamentato questa situazione. Voltiamo pagina adesso. La cronaca. Un uomo è deceduto stamane intorno alle 5.30 a causa di un malore mentre stava facendo la guardia in auto alla serra per proteggerla dalla presenza di cinghiali presenti nella zona da molto tempo e provocavano danni alle coltivazioni. L'uomo aveva con sé un fucile. È successo in località La Vallina, piano di Momio, frazione del comune di Massarosa, dove si trova la serra nel campo. Sul posto è stata inviata dalla centrale operativa del 118 l'automedica, ma i suoi corritori hanno potuto solo effettuare la constatazione di morte per cause naturali. Adesso invece a Forte dei Marmi, dove il neosindaco Bruno Murzi ha annunciato che rinuncia allo stipendio da amministratore e gli assessori si riducono il compenso del 30%, soldi che andranno al settore sociale. Sentiamo. Prima promessa elettorale mantenuta. Pensare alle famiglie in difficoltà. Questa la missione di Bruno Murzi, medico cardiologo e neosindaco del comune di Forte dei Marmi, che ha deciso, in tempi di antipolitica, di rinunciare allo stipendio per tutta la durata del suo mandato e di ridurre del 30% gli emolumenti dei suoi assessori. L'importo complessivo, 52 mila euro annui, sarà impiegato tutto nel sociale. Questo è il primo atto della Giunta Murzi che ha mantenuto fede all'impegno pronunciato in campagna elettorale ed è legato al momento di crisi economica che anche la nota località turistica versiliese sta vivendo. L'intero importo verrà destinato ad uno specifico fondo di carattere sociale, sul quale i Forte Marmini verranno informati preventivamente. Un gesto che permetterà di aiutare le famiglie in difficoltà nella opulenta Forte dei Marmi. Risparmiare 52 mila euro l'anno potrebbe dare possibilità ai più deboli di avere un aiuto tramite contributi in conto affitto oppure aiutare a pagare le bollette a chi purtroppo non ci riesce. Certo, questa non è la soluzione a tutti i problemi, ma è un segnale importante. La politica è volontariato e questo del neosindaco di Forte dei Marmi, Murzi, è un bel gesto, senza dimenticare che nessun sindaco ha rinunciato da queste parti all'indenità mensile. Restiamo a Forte dei Marmi. È stata risolta definitivamente la questione degli assistenti bagnanti alla spiaggia libera di Vittoria Puana. La Giunta Comunale ha approvato l'atto di indirizzo e per la sorveglianza alla bagnazione, la vigilanza a mare e la pulizia sul tratto libero di Arenile al confine con Cinquale dal 1 di luglio al 31 di agosto. Andrà ad integrare quello attivato per il mese di giugno. Il servizio, che verrà gestito dall'azienda comunale Multiservizi, è stato confermato per tutte e quattro le postazioni operative e sarà attivo dalle 10 alle 19. Sulle Apuane ancora un incidente. La stazione di Quercetare, il soccorso alpino speleologico toscano, impegnata nella notte scorsa a recuperare un mountain biker caduto nei boschi nel comprensorio di Retignano. Siamo nello Staziemese. Un ciclista versiliese di 41 anni, mentre stava percorrendo un percorso nei boschi, è caduto riportando un trauma al torace e agli arti superiori. Il compagno che si trovava con lui ha provveduto a dare l'allarme. Il 118 è inviato sul posto ai soccorritori alpini e è arrivata anche la misericordia di Seravezza. È stato poi trasportato verso Ruosina e da lì in ambulanza all'ospedale Noa di Massa. Adesso invece a Pietrasanta, dove il sindaco Massimo Mallegni, pensate, si è autodenunciato alla Polizia Municipale dopo aver lasciato l'auto personale giovedì notte in sosta vietata in via 20 Settembre, in certo storico. Vedete, violando la ZTL e superando i varchi elettronici del Sant'Agostino. L'auto lasciata fuori dagli stagli è stata prontamente fotografata. La vedete la foto? Il caso è stato denunciato su Facebook da un gruppo di cittadini, senza citare l'autore del gesto. Ma non è stato necessario perché poco dopo lo stesso Mallegni si è rivolto alle forze dell'ordine. La multa non era stata rilevata dagli ausilari del traffico né dai vigili e il sindaco ha scritto un'e-mail al comando e dunque si è fatto multare la multa da 28,70 euro, ha persino pubblicato il bollettino con il pagamento Toleranza zero verso tutti, persino contro il sindaco ha dichiarato lo stesso primo cittadino. È giusto così. Restiamo. A Pietrasanta, lavori iniziati all'ex ospedale Lucchesi, ospiterà uffici comunali e non solo. Sentiamo. Inizia una nuova vita per l'ex ospedale Lucchesi di Pietrasanta. È stato aperto il cantiere per la riqualificazione e riconversione dello storico edificio che sarà destinato ad uffici come l'ala nord dello stabile che già ospita da dieci anni gli spazi comunali. Costruito nel 1852 sui resti di una piccola chiesa risalente al tardo periodo Longobardo su progetto dell'architetto fiorentino Mariano Falcini e terminato nel 1865 anno in cui iniziò la sua attività di assistenza e cura la popolazione fino al 2002 l'edificio è entrato a far parte del patrimonio immobiliare del comune dopo la permuta con l'ASL che si è tenuto invece la ex colonia Laveno, oggi abbandonata. 500.000 euro il costo per l'operazione. Una parte degli uffici al primo piano saranno utilizzati dall'amministrazione una parte andrà in affitto per autofinanziare parzialmente l'investimento. Il progetto prevede il ripristino dell'accesso storico da via Capriglia e un accesso per disabili all'entrata secondaria. Nel primo lotto, quello partito in questi giorni, è prevista la progettazione degli impianti elettrici e meccanici. Attenzione al risparmio energetico, al contenimento dei costi di manutenzione, alla sicurezza con l'installazione di allarmi anti-intrusione e di un impianto automatico di rilevazione degli incendi. Portiamo avanti un altro tassello del nostro mandato, è il commento del sindaco Massimo Mallegni. Oggi il patrimonio immobiliare è di poco superiore a 120 milioni di euro, ha concluso Mallegni. E il nostro obiettivo è valorizzarlo e farlo fruttare nell'interesse della comunità. Restiamo ancora a Pietrasanta. Il museo archeologico versiliese Bruno Antonucci a Palazzo Moroni aprirà entro l'estate, dunque tra poco la conferma arriva dall'amministrazione. Corso a contro il tempo per l'apertura del nuovo spazio, in programma questa domenica alle 11. Andrà ad arricchire la proposta culturale versiliese e locale, soprattutto con il Museo Barsanti, il Museo dei Bozzetti, il Palazzo Panichi e la Casa Natale, il Museo Casa Carducci a Val di Castello. E il museo, ospitato al Piano Terra, mette in esposizione centinaia di reperti, la cui datazione copre un arco temporale che va dalla preistoria al Medioevo in Versilia. Il progetto è stato seguito, coordinato ed approvato dalla Sovrintendenza delle Belle Arti, dall'Università di Pisa e dal Comitato Scientifico. Dunque, vernissage questa domenica, 25 giugno alle 11. Ma a proposito di storia e di arte, l'arte contemporanea invade per tutta questa estate il Centro Storico di Seravezza. Andiamo a vedere. L'arte contemporanea invade il Centro di Seravezza, che per la prima volta diventa un museo a cielo aperto, grazie a due mostri in esposizione per tutta l'estate, promosse dal Comune e dalla Fondazione Terre Medice. Tre chiese e altrettanti oratori del Centro Storico diventano luogo d'elezione per ospitare le opere di Alfredo Rapetti Mogol e di Johnny David Parra. Tutta una serie di lavori e di installazioni che sono state pensate perché gli artisti, così come il curatore, hanno avuto modo di fare un sopralluogo antecedente e dopodiché hanno lavorato ognuno per conto proprio andando a correlarsi con ambienti così importanti perché si parla di chiese che hanno la loro fondazione nel 400 come nel 600. In esposizione fino al 31 agosto, la Danza degli Utopisti, mostra dell'artista versiliese Emanuele Giannelli, un percorso in otto tappe dal Palazzo Mediceo al centro con installazioni sui muri e le sculture sospese sul letto del fiume. Le ispirazioni sono varie, diciamo che la tematica del mio lavoro è sull'industrializzazione, sull'uomo contemporaneo, la serialità dell'immagine e l'uomo un po' visto come produttore e come consumatore. All'interno, secondo me, l'uomo è un po' schiacciato di questi due concetti e quindi nasce un po' tutto il mio lavoro. Queste due importanti esposizioni che si svilupperanno su tutto il centro storico faranno sicuramente la cassa di risonanza per l'area Medicea e per l'importante esposizione su Plinio Nomellini che sarà qui a Palazzo Mediceo dal 13 di luglio. Quindi siamo molto soddisfatti e ci auguriamo e siamo certi che il pubblico e i visitatori saranno molto affascinati. Da Cardoso a Viareggio la ciclo pedalata per ricordare i due eventi tragici che legano in qualche modo i due angoli della Versilia, l'alluvione del 96 e il disastro ferroviario del 2009. Sentiamo Roy Lepore. È in programma domenica in memoria la Viareggio Cardoso per non dimenticare. Ciclo pedalata aperta a tutti. Un'iniziativa che nello spirito migliore dei versigliesi unisce due comunità nelle ricordi di una doppia tragedia che ha colpito entrambe la strage del 29 giugno 2009 e l'alluvione del 1996 recentemente ricordata proprio a Cardoso. L'iscrizione al costo di 10 euro è possibile in via Porta Pietasanta a Viareggio vicino alla Casina dei Ricordi sia sabato dalle 16 alle 20 che domenica mattina dalle 7.30 alle 8.45. La partenza è fissata alle ore 9 dopo la commemorazione delle vittime della strage ferroviaria. I partecipanti attraverseranno i comuni di Viareggio, Massarosa, Camagliore, Petrasanta, Forte dei Marmi, Seravezza e Stazzema. L'arrivo a Bruno è previsto per le 11.00. A Cardoso avrà luogo la commemorazione delle vittime dell'alluvione. Il gruppo Noalte si occuperà del ristoro per i concorrenti dal della ciclo pedalata organizzata dal Kral dei Vigili del Fuoco, Granfondo, Versia, Tartaluga e Lente, gruppo Noalte. Verranno assegnati il premio Agostino Bresciani per la società del vincitore, il premio Mario Gianneschi per il concorrente più anziano, il premio Angelo Pardini per il gruppo più numeroso, premi per i primi tre classificati uomini e donne per il concorrente più giovane. È obbligatorio per tutti i partecipanti l'utilizzo del casco. E c'è anche un'altra iniziativa legata a questo sabato 18.30, la GAMC, Palazzo delle Musee a Viereggio, la consegna del premio nazionale Angelo del Soccorso 2017. Ci saranno diversi Vigili del Fuoco Vieregini e non solo, che riceveranno un riconoscimento proprio per l'attività di quella tragica notte del 29 giugno di otto anni fa. Tra le autorità ci saranno anche i Vigili del Fuoco della città del Vaticano. Ed è lutto a Lido di Camaiore per la scomparsa all'età di 99 anni di Dora Biagi, fondatrice insieme alla famiglia dell'omonimo e noto hotel della passeggiata, una figura storica per gli albergatori. L'associazione Albergatori di Lido di Camaiore è vicina alla famiglia in questo momento di dolore. Ci fermiamo per una pausa, tra poco ancora insieme con tutte le notizie sportive. Eccoci dunque allo sport, il calcio in primo piano, prime conferme in casa bianconera. Parliamo del Viareggio 2014, sentiamo Roy Lepore. Il Viareggio dopo aver effettuato il primo ingaggio con Elia Galligani, attaccante del Domo d'Ossola, ha perfezionato l'accordo con Andrea Carpira, portiere e anche preparatore dei portieri del settore giovanile, con il capitano Nicolás Guidi che così ricoprirà ancora il ruolo di centrale nella difesa bianconera come voleva l'allenatore Carlo Bresciani. E anche l'accordo è stato raggiunto con il preparatore dei portieri Alessandro Mannini. Quindi si iniziano a delineare quelle che sono le linee che voleva l'allenatore Carlo Bresciani e la società stessa di voler improntare la squadra del prossimo campionato il più possibile sulla Via Regginità. Dal calcio al bice soccer, sempre per il mercato, il portiere Matteo Costa andrà a giocare in Polonia. È stato ingaggiato dalla Greenback Lozza, ha difeso la porta dei Cavalieri del Mare per poi approdare alla Lazio come vice campione d'Italia. Quest'anno gioca nel Livorno in Serie A, ma ha avuto questo ingaggio appunto in Polonia. Oltre dunque a Gori e Ramacciotti che sono approdati in Russia, un altro giocatore è cresciuto al Muralione in Darsena e dunque avrà questa grande possibilità di giocare all'estero. Il calcio estivo adesso è il torneo delle contrade di Querceta. Una partita davvero pirotecnica fra Lucertola e Ponte finita 6-3 per il Rosso Verde. Vediamo. Una gara pirotecnica nella seconda giornata del girone B del torneo delle contrade di Querceta ha visto la Lucertola imporsi con un tennistico 6-3 sul malcapitato Ponte. Un match ricco di azioni, gol e colpi di scena. La goleada Rosso Verde si apre al settimo con Pellegrini. Il raddoppio arriva 5 minuti più tardi con Bertuccelli. La Lucertola di Paolo Malfanti preme sull'acceleratore e trova il terzo gol alla mezz'ora con Giannini. Finalmente il Ponte reagisce, 7 minuti più tardi grazie a Soldani e il 3-1. Al 42esimo ci pensa Monaco con il secondo gol del Ponte ad accorciare le distanze. Un tempo di recupero infinito, ben 7 minuti, consente alla Lucertola di guadagnarsi un calcio di rigore e chiudere il primo tempo su 4-2. Il Ponte di Raffaele Moriani nella ripresa torna in campo con quattro sostituzioni per cercare di rimediare. Riaccende le speranze rosso-blu Capitan Bresciani con il gol del 4-3. In pochi minuti la Lucertola però si riporta avanti con Tonacci. Neppure due rigori parati da un formidabile ballettai ribaltano il risultato. Il 6-3 definitivo arriva allo scadere. Siamo stati bravi a rimanere sempre concentrati fino al 3-0. Poi dopo ci abbiamo voluto mettere i nostri soliti 10 minuti di blackout e abbiamo subito preso due gol. Sui rigori tante emozioni soprattutto perché non li ho quasi mai parati in carriera. Mi li sono tenuti per una serata importante diciamo così dai. Abbiamo trovato un avversario molto valido e ci ha messo anche in difficoltà. Però abbiamo ribattuto molto bene, ci siamo chiusi e poi siamo ripartiti anche molto bene. Creando diverse occasioni da gol. Sono contento per i ragazzi perché abbiamo fatto un percorso, questo il mio è il terzo anno e si stanno vedendo i frutti della crescita dei ragazzi. Il nuoto adesso la Via Regina di Letta Carli non supera le batterie sui 200 stile libero nell'ambito del 54esimo trofeo internazionale Sette Colle di Roma. Inserita nella sesta batteria la 21enne nuotatrice Via Regina ha infatti coperto la distanza di 2 minuti 2.38 che è levato solo il 25esimo tempo tra le partecipanti. Per la cronaca il miglior tempo l'ha fatto segnare l'eterna fuori classe azzurra Federica Pellegrini 1.5789. Parliamo ancora di sport adesso con un premio speciale significativo arrivato da Silvia Storari della Via Reggio Versilia Beach Tennis nell'ambito di un trofeo di un torneo in spiaggia di un'altra grande giovane Via Regina. Sentiamo di chi si tratta. Un elemento fondamentale dello sport dal punto di vista formativo è la cultura dell'impegno. Un altro aspetto educativo della pratica sportiva sta nella cultura dell'incontro con gli altri perché abito ad un vero, sincero, genuino contatto con i compagni ed avversari. I ragazzi hanno bisogno di giocare come priorità assoluta della loro vita adolescenziale. Attraverso il gioco e stando insieme imparano a stare al mondo. Ed è quello che per l'estate 2017 sta facendo Silvia Storari, presidente della società Via Reggio Versilia Beach Tennis, in uno stabilimento balneare della Darsena dove oggi ha preso in via la seconda tappa del torneo. Oggi mi è venuta l'idea di premiare una ragazza di Via Reggio che veste la maglia della Fiorentina del calcio e che ha vinto lo scudetto e la Coppa Italia e adesso partirà tra pochi giorni per il riteno della nazionale di calcio femminile. Quindi volevo farla venire qua in mezzo a questi ragazzi e ai miei ragazzi di questo torneo per far capire anche loro l'importanza dell'impegno e del sacrificio che logicamente poi ti fa raggiungere certi livelli. Allo stabilimento balneare Vittorio Veneto oggi ha fatto visita la neolaureata campione d'Italia di calcio femminile serie A Greta Adami, Via Regina Doc e centrocampista della Fiorentina Women's che ha ricevuto un premio per mano di Silvia Storari. Quando finisci tutti i tuoi impegni puoi venire qua a giocare a bici e tennis così ti insegniamo un pochettino. Sarò molto felice di venire appena ho finito i miei impegni che è anche uno sport che mi piace tantissimo e purtroppo non ho tanti amici a cui piace per cui magari porterò anche loro quindi magari si appassioneranno insieme a me e avrò tempo per come passare le mie giornate diciamo. Allora noi tutti noi questi cento ragazzi ti auguriamo un bocca al lupo per tutto quello che stai facendo. VIVO RETEVERSILIA! Per il momento è tutto ci fermiamo per una breve pausa tra poco ancora insieme terza parte del TG. Ben ritrovati terza parte del TG Versilia. Non ci sono aggiornamenti per il momento vi ricordo il nostro sito web reteversilianews.com che potete consultare per le principali notizie della giornata anche per altre notizie che vi segnalo come quella che arriva dall'Alta Versilia, il patto per la pace tra Stazema e la regione del Baden-Württemberg in Germania è stato firmato un protocollo questa mattina che porterà un'iniziativa dal 5 al 13 agosto prossimo a Sant'Anna per un workshop sulla pace. E poi dall'ospedale Versilia la donazione del Lions Club a Via Reggio Riviera che ha donato un macchinario e un tonometro a soffio al reparto di oculistica dell'ospedale ed è l'ultimo gesto di generosità del Lions Club a Via Reggio Riviera a chiusura di due anni di presidenza del dottor Michele Petrone. Qua vediamo anche un momento della donazione. Prima di salutarci ci sono gli auguri, come sempre questa sera partiamo con le felicitazioni al giocatore di occhi del Forte dei Marmi Gaston De Oro che si è sposato stamani al Palazzo Mediceo a Seravezza con Cecilia, Argentina, con nonni italiani, anche De Oro è argentino di origine ma ormai naturalizzato in Italia, vive proprio a Seravezza e per questo ha deciso di sposarsi in Versilia. A lui arrivano le congratulazioni, le felicitazioni dai compagni di squadra e da Rete Versilia News. Gli auguri di buon compleanno invece a Fabrizio Galli, carrista del Carnevale di Via Reggio festeggia il suo compleanno. Gli auguri arrivano dai familiari, dagli amici e da tutti i carnevalari viareggini. Aguri di buon compleanno anche a Gabriele Olivi di Pietrasanta, ex calciatore, direttore sportivo. Gli auguri per il suo compleanno da parte dei familiari. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi e buona serata. Grazie.